Montercosu Montercosu è l'osi più grande gestita dal WWF Italia. Protegge parte della foresta meglio conservata del Mediterraneo. La vegetazione in continua evoluzione è in continuità con un paesaggio geologico straordinario. Quelli che si vedono sono i lacci per la cattura illegale del cinghiale e del cervosardo. Proprio il bracconaggio è da sempre una delle minacce per l'intero compressorio che ospita l'oasi e che il WWF ha combattuto duramente negli anni fino ad emarginarlo dall'oasi. Oltre alle visite sono molte le attività didattiche sul campo e all'interno del centro di educazione ambientale. Ricchissima è la flora e la fauna con specie rare e spesso endemiche. Come il cervosardo, il simbolo dell'oasi. Quasi estinto negli anni 70 del 900, grazie proprio al WWF e all'osi di Montercosu, non solo si è salvato, ma si è ripreso nettamente. Quando il WWF comprò Montercosu i cervi erano 70, ora sono più di 1000. Nell'oasi è possibile osservare facilmente la flora e la fauna e godersi spettacoli naturali come le cascate.